Panchine intelligenti, servizi digitali e telecamere sono le principali novità per i passeggi di Fano annunciate oggi in comune da Mirko Carloni. Il vicepresidente della regione Marche ha chiesto personalmente ad Enelix di riqualificare l'intera area prevedendo la possibilità di utilizzare internet e ricaricare dispositivi tecnologici. Alcuni di questi servizi verranno incorporati nelle panchine multifunzione in grado di coniugare la modernità in tutti i contesti urbani. Tra le caratteristiche rientrano i moduli fotovoltaici di una potenza di 110 watt, ricariche sia wireless che USB, internet 4G con raggio d'azione di 4-20 metri e poi sensori per la temperatura, l'umidità e la pioggia. In quest'ultimo caso si spegne la panchina. Previsto anche un sistema di raffreddamento ad aria condizionata con quattro ventilatori con temperatura minima di accensione a 35 gradi centigradi e una luce ambientale di colore bianco con raggio di 2 metri. Sono ancora da stabilire le tempistiche dell'intervento ma intanto è stato eseguito un sopralluogo per definire i dettagli che daranno maggiore decoro a questo piccolo polmone verde tanto amato dalla città. Devo ringraziare il vicepresidente della regione che si è fatto tramite perché è un intervento che mette in cantiere Enel X che gestisce quell'area e porterà delle innovazioni importanti che renderanno più sicure e più gradevole l'area dei passeggi. Cioè delle innovazioni tecnologiche che riguardano la videosorveglianza, riguardano l'automazione, riguardano anche l'installazione di panchine di ultima generazione, ultramoderne, che si alimentano con energia solare, dotate di wifi e tutta una serie di servizi. E' chiaro che a questo affiancheremo anche ulteriori iniziative dell'amministrazione comunale per rendere ancora più accogliente quell'area. Quindi anche questa è una bella risposta. E' un incontro tra la regione che si è fatto tramite con Enel X e l'amministrazione comunale.